Siamo pronti? Potresti chiedere a Vincenzo quando è stata l'ultima volta in chiesa probabilmente la risposta sarebbe più... Quello è quello per i rotellini, l'altro il flaconcino piccolino è l'olio, quello che ti serve, manca il carletto che dove è andato il carlo? Spero che si sia buttato nel burro. Siamo pronti per l'impresa? Pronti? Pronti? Via! Grazie a tutti! 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 gambe rotte, strutte, strutte, bellissimo però, bello dove siamo? allora? stanco, bello, bello, stanco, stanco vince? bellissimi momenti, sono cotto, meraviglioso ottimo, è abbondante è un giro che lascia il segno lo lascia un po' più vediamo allora, diciamo così, il giro a noi è piaciuto a noi che siamo allenati perché ci siamo sempre portati dietro siamo della gente che è poco allenata poco allenata poco allenata scusate, non dalle attività poco allenata perché è così non ce la fa nonostante l'uoco è un triatleta, capito? che non si impegna ma è bravo, bravo siamo siamo però ecco per qualcosa gli manca lo sprint vabbè bel giro bello 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 da fare in gara soprattutto in gara esatto è un po' l'anno da fare in gara è un progetto e da fare in gara ci sono due 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 Grazie a tutti